Mi ha fatto patire Ma non è mica darla, ti vedi? Leo vuoi vederlo? Secondo se mi vede, ma non penso Sei stupido, Leonardo 3 2 1 3 2 Quello che vuoi! Quello che c'è, quello che c'è, perché il kpop mi fa schifo E' morto il fratello di mia cugina Ciao a tutti, sono Irenia e bentornati in questo nuovo video Oggi siamo qui per fare la whisper challenge, sono io con mia cugina Irenia E' il mio brother Leonardo Ciao a tutti, io sono Irenia e bentornati in questo nuovissimo video Oggi siamo con Sofia che avete già visto nel gelante tag io vi linko il video e con Leonardo che è la mia entry del canale che adesso è liderato di questo video perchè farà un sacco di macello e ridurre la guarda Allora intanto questa mailetta fighissima e poi il perceletto fighissimo li ho comprati ieri alla partita che farà questo è fighissima Oggi faremo la whisper challenge però con liceo di lingua Io apro google e mi trovo un cosa e non dico no non la voglio no non deve ballare non deve ballare no no non ho un nonno non la posso non ho un nonno non la voglio non ho un nonno no no un nonno un coriglio nonno un nonno un nonno un nonno un nonno un nonno bravo un pezzo di pizza basta la voce solo ti sento un pezzo di pizza 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 pizza pazza un pezzo di pizza pazza pizza pazza pazza un pezzo di pizza pazza mangio in panza dentro la panza la panza un pezzo di pizza pazza e impazza un pezzo di pizza pazza dentro la panza pazza nel pozzo nel pozzo di Puzio di Puzio Puzzi Puzio 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 buco Puzio dimmi ma perchè bravo però guardavi a quest'ora acqua scuola a quest'ora il quest'ora il le il quest'ora in quest'ora non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è tigri 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 ma in che lingua è? treni tigri 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 è prontaé? a che serve Una serva che non serve Manda la serva che non serve Manda la serva che non serve Da chi servirà? Da chi si servirà? Da chi Si servirà? Da chi Si servirà? Sh swear Di una serva Di una serva Entro Un'altra Dietro, un palazzo, c'è un povero, sto, c'è, un povero, un povero, cane, alle, cane, alto, uof, uof, cane, con un cane, 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 pazzo, date, pazzo, date, cane, date, cade, date, date, un pezzo, un mancio, Un pezzo, un bacio, un pezzo, un pezzo, di pane, di pane, a quel povero, a quel povero cane, pazzo, pazzo, pazzo cane, dai Leo, pensi una me ne manca, per favore basta, una ne faccio, sopra, o sotto, o sotto, e le ola ola, per salvarmi, Ehi, 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 il mio booster mi porta, ehi Basta, io me ne guardo Dai, dai È meglio così No, metterò, no, così non va bene Leo, rimettilo là Perché? Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale E in descrizione ci sono nostri profili Instagram, metterne quelli di Leonardo Questo è il mio? No, adesso metti anche il mio Nel questo, neanche, ci vediamo tra un pochino di tempo Forse 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 E per te la septima Store Bella faccina Quindi facciamo un altro video Quindi, per niente, il mio tavolo è pieno Come die lato strofino E ci tenemos altro spoon Sì Musica 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 Spengo Musica Non sapevo io